Buon pomeriggio e grazie per essere con noi in questa giornata di addio a Benedetto XVI. Un saluto è il nostro che vuole essere occasione per riflettere sulla testimonianza e sul pensiero di Josef Ratzinger. È un compito lungo e bello quello che ci tocca in questa giornata. 95 anni di vita, tanti anni da teologo, da vescovo, da papa. Sono tante le testimonianze, gli insegnamenti che ci ha lasciato Benedetto XVI. Vogliamo cominciare questo pomeriggio da un ricordo, un episodio, un dialogo tra Benedetto XVI e i ragazzi della Prima Comunione. Era l'ottobre del 2005. Questo dialogo tra il papa e i bambini ci rimanda due aspetti della personalità. Da un lato la profondità di pensiero di chi si trova a spiegare a dei ragazzi uno dei misteri della nostra fede, la presenza di Gesù nell'eocarestia. E dall'altro però anche la tenerezza, la semplicità che caratterizzano il tratto umano di Josef Ratzinger. Ricordiamolo così. La mia catechista, preparandomi al giorno della Prima Comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Non vediamo la nostra intelligenza e la abbiamo. Non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere, eccetera. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono, come funziona, vediamo le luci. Quindi con una parola, proprio le cose più profonde che portano realmente la vita e il mondo non vediamo, ma possiamo vedere, sentire gli effetti. L'elettricità, la corrente non vediamo, ma la luce vediamo e così via. E così anche il Signore risorto non lo vediamo con i nostri occhi, ma vediamo che dove è Gesù gli uomini cambiano, diventano migliori, diventa un po' una maggiore capacità di pace, di riconciliazione, eccetera. Quindi non vediamo il Signore stesso, ma vediamo gli effetti, così possiamo capire che Gesù è presente e proprio le cose, come detto, invisibili, sono le più profonde e importanti. Così andiamo incontro a questo Signore invisibile, ma forte, che ci aiuta di vivere bene. Do il benvenuto a Massimo Borghesi, professore di filosofia morale all'Università di Perugia, a Don Roberto Regoli, direttore del Dipartimento di Storia della Pontificia Università Gregoriana. Don Roberto, comincio da te. Tu hai conosciuto Ratzinger non da bambino della Prima Comunione, ma da giovane prete. Che cosa ci restituisce questa immagine parzialmente inedita di Benedetto XVI, ricordato sempre come grande teologo, pontefice, eppure è capace appunto di questa tenerezza, semplicità. Chi è stato per te Benedetto XVI e forse anche chi è stato in generale, visto che tu sei uno storico. Grazie. Allora comincio dalla seconda parte, su chi è stato in generale. Sicuramente è stato un personaggio che ha toccato il cattolicesimo dell'epoca contemporanea. Pensiamo dal suo contributo al Concilio Vaticano II, pensiamo al suo contributo come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e il suo ruolo da Papa. Cioè la storia del cattolicesimo, contemporaneo, passa per il suo dato biografico. E qui possiamo pensare anche all'uomo. Chi era lui? Di lui si conosce il teologo, l'amante della musica, di Mozart, delle aranciate, dei gatti. Ma è stata una persona, e questo mi ha colpito negli incontri personali che ho potuto avere con lui, interessata al suo interlocutore. Non era lì di facciata, di saluto, veloce. Mi ricordo mi domandava delle mie pubblicazioni, dei miei testi, su cosa stavo studiando. Era veramente interessato a chi era di fronte a lui. Possiamo dire in ultimo, quindi, che il suo tratto umano predominava in lui, faccia predominare in lui l'aspetto della gentilezza e dell'attenzione. E un'altra caratteristica, che forse è anche quella dello studioso, era in fondo una persona molto curiosa. E quindi il suo domandare era legato anche a questo suo aspetto peculiare. Massimo, Don Roberto ci ricordava l'importanza che Ratzinger ha avuto nella storia del cattolicesimo, praticamente dal dopoguerra ai giorni nostri, dal concilio ai giorni nostri. Chi è stato per te Ratzinger? Ma è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti, dal punto di vista della teologia, del concilio Vaticano II. Lui, von Balthasar, de Lubac, questo trio di grandi che hanno dato forma prima e poi anche dopo al concilio Vaticano II. Quindi, noi diciamo concilio Vaticano II, è ormai diventato uno slogan, in realtà è stata una grande rivoluzione dentro la Chiesa, perché il Vaticano II torna alla prospettiva del primo millennio e in qualche modo si congeda da una stagione ricchissima, certamente, della Chiesa, che è quella medievale, ma anche quella in parte moderna, che è l'idea della cristianità. Invece no, lì si ritorna a una prospettiva di un cristianesimo dentro ancora il mondo pagano, in cui la Chiesa non è ancora una realtà istituzionale potente, che guida i destini dei popoli, no? È una Chiesa pellegrina. E non a caso Ratzinger, come dire, non può in qualche modo prendere le distanze da una certa teologia scolastica, il suo riferimento è Agostino. Quindi è il riferimento di una città di Dio dentro la città degli uomini. È l'idea... Di una minoranza, in qualche modo. Di una minoranza, ma non è soltanto una strategia della minoranza. È l'idea che il cristianesimo in maniera evangelica si muove da persona a persona, mediante delle testimonianze creative, vive... Cresce per attrazione. Cresce per attrazione. Questa è un'idea che lui ha posto al centro del suo pensiero, della sua teologia. Anche adesso, permettimi questa osservazione, questo linguaggio che lui così... Questo parlare semplice ai bambini, no? Beh, uno dei grandi pregi di Ratzinger da papa e da teologo è la semplicità del linguaggio, rifugiva dalle complicazioni della teologia scolastica. Quindi un linguaggio semplice non solo con i bambini, ma ci torneremo. Adesso invece andiamo subito a Piazza San Pietro da Cristiana Caricato per farci raccontare un po' quello che sta succedendo in queste ore, ma soprattutto, Cristiana, quello che succederà nei prossimi giorni. Sì, eccoci nuovamente in diretta da Piazza San Pietro. Come vedete, alle mie spalle, oltre la barriera di telecamere, fari e corrispondenti di tutto il mondo, la piazza è praticamente vuota, perché alle 14 è stata sgombrata per la necessaria bonifica. In questo momento la folla è tutta assiepata ai due varchi che sono stati creati sotto i due colonnati con cui termina la piazza e la gente deve passare i controlli di sicurezza. Questa mattina in realtà c'era uno scenario completamente diverso, tantissimi tra turisti, pellegrini, fedeli, moltissimi entravano in basilica, molti uscivano con il viso rigato dalle lacrime, dopo aver pregato per il Papa Emerito, che come sapete è deceduto alle 9.34 di questa mattina. Notizia che è arrivata 58 minuti dopo, attraverso la dichiarazione del direttore della sala stampa vaticana, alle 10.23, che con righe semplicissime ha espresso il dolore nell'informare appunto del decesso nel monastero Mater Ecclesia del Papa Emerito Benedetto XVI. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Oggi è il 31 dicembre, è un sabato e questa è una data estremamente simbolica per la vita di Papa Benedetto e i vostri ospiti sicuramente lo sottolineeranno. Naturalmente sono previsti i riti dell'ultimo dell'anno, quindi il Tedeum per il momento di ringraziamento per l'anno appena trascorso e poi i primi vespri del 2023 della solennità di Maria Madre di Dio. Sono riti presieduti da Papa Francesco e quindi attendiamo proprio le parole del Papa con quello che si presume sarà una preghiera di ringraziamento per la straordinaria esperienza umana, spirituale, teologica e pastorale del Pontefice Emerito Benedetto XVI. Quindi c'è grande attenzione e grande attesa per le parole che pronuncerà Papa Francesco. Papa Francesco, che proprio mercoledì, lo ricorderete, ha comunicato al mondo l'aggravarsi delle condizioni di salute di Benedetto in seguito a una crisi respiratoria. Il Papa da tempo soffriva di disturbi respiratori dovuti naturalmente all'età avanzata. Questa frase celebre, ormai diventata celebre, del suo segretario, si spegne come una candela, era esattamente, descriveva esattamente gli ultimi giorni di vita di Papa Benedetto. Quello che possiamo dire è che finalmente davanti al mistero che ha contemplato, indagato e testimoniato per tutta la sua vita, finalmente è in paradiso a casa, come ancora una volta dei bambini, una bambina viettaminita aveva detto durante la festa l'incontro mondiale delle famiglie a Milano, ricorderete quella bellissima descrizione del paradiso, un ritorno in famiglia insieme al fratello amatissimo e ai genitori e alla sorella. Quindi oggi, diciamo, tutti accompagniamo in questo incontro bellissimo del Papa, il Papa è merito e naturalmente qui a Piazza San Pietro tutti volgono gli occhi a quello che dirà Papa Francesco, il successore di Benedetto XVI, ma anche il complice di questi dieci anni quasi di isolamento da Monaco nel monastero Mater Ecclesia. Cristiana, ci ricordi anche da quando sarà possibile omaggiare la salma e il giorno e l'ora dei funerali? Sì, allora, ricordiamolo, dal 2, quindi dal lunedì 2, sarà possibile venerare la salma di Papa Benedetto, così un po' come era avvenuto per San Giovanni Paolo II, i giorni naturalmente saranno minori, i funerali sono previsti giovedì 5 gennaio alle 9.30, presieduti, come ovvio, da Papa Francesco, saranno sicuramente presenti i due presidenti, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente tedesco, gli unici due formalmente invitati, perché ci è stato comunicato che non sono partiti inviti formali, proprio perché Papa Benedetto, nel suo testamento spirituale, ha chiesto funerali semplici, un esecue all'insegna della semplicità. Naturalmente, è stato sottolineato dal direttore della Sala Stampa Vaticana, saranno funerali sobri, ma solenni, perché si tratta sempre di un pontefice, il numero 265 della lunga storia della Chiesa. Sappiamo già, per esempio, possiamo dare già una conferma, tutti quelli che interverranno, interverranno, diciamo, spontaneamente, saranno ovviamente ospiti graditi. Possiamo dire già che Bartolomeo I, il patriarca di Costantinopoli, sarà rappresentato da Emanuele, metropolita maggiore di Calcedonia. Ricorderete anche l'affetto tra Bartolomeo e Papa Benedetto, l'intesa splendida, con quelle mani alzate al cielo, nel settembre del 2006, a pochi mesi, tra l'altro, dal discorso controverso, sicuramente non compreso, discorso di Regensburg, un viaggio in Turchia che ricucì il rapporto con il mondo islamico, ma che Sancì ancora rinsaldò l'alleanza, l'amicizia fraterna con i fratelli ortodossi. Ricordiamo, tra l'altro, che proprio il 5 è la vigilia del Natale ortodosso, quindi anche questo probabilmente porterà qualche defazione. Grazie Cristiana e buon lavoro. Sono ore queste in cui evidentemente arrivano, ciascuno ricorda quello l'importanza, il contributo alla testimonianza di Benedetto XVI. Tra pochissimo vi faremo ascoltare il ricordo del Presidente dei Vescovi Italiani, il Cardinal Matteo Zuppi. Prima però una piccolissima pausa. Di nuovo in diretta, in questa giornata di saluto, ma anche di ricordo e di riflessione su Benedetto XVI. E allora riprendiamo con il ricordo del Presidente dei Vescovi Italiani, il Cardinale Matteo Zuppi. Oggi concludiamo l'anno, accompagniamo il Papa Emerito Benedetto che conclude la sua vita, o meglio che passa a quella vita eterna nella quale ha sempre confidato. nella lettera che aveva scritto poche settimane fa, diceva ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e di paura, sono comunque con l'animo lieto, perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l'amico e il fratello, che ha già patito egli stesso le mie insufficienze. Perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato. Ecco, Papa Emerito Benedetto aveva sempre detto che la vita non è un cerchio che si chiude, ma è una linea che tende alla sua pienezza. Ringraziamo il Signore per il dono del suo pensiero, della chiarezza della sua fede, della semplicità con cui aveva sempre vissuto e con cui ha comunicato le profondità del mistero di Dio. L'onestà personale, l'attenzione al rispetto per l'altro, l'amore per l'unità della Chiesa e perché quel concilio a cui tanto ha contribuito venisse applicato e continuasse, come disse nel cinquantesimo anniversario, quella radiosa ebrezza, quella sobrie ebrezza del concilio che la Chiesa si rimetta in viaggio, così si auspicava. E' quello che continua, forti della sua testimonianza e grati per un suo servizio fino alla fine di preghiera e di amore per la Chiesa. Per anni il Papa Emerito Benedetto si è affacciato dalla finestra e quando celebrò i funerali di San Giovanni Paolo II usò proprio questa immagine e disse possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice, si ci benedica, Santo Padre e noi affidiamo la tua cara anima alla madre di Dio, tua madre, che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del suo figlio. queste sue parole le facciamo nostre e siamo certi che il Papa Emerito Benedetto dalla casa del Padre continua a pregare, a benedire i suoi figli e a accompagnare con la sua intercessione il viaggio che auspicò per la Chiesa in mezzo ai tanti pellegrini, ai tanti uomini che camminano in questo mondo. Saluto collegato con noi il direttore dell'osservatore romano Andrea Monda. Ciao Andrea. Ciao Gennaro, eccoci. Abbiamo appena ascoltato le parole del Cardinale Zuppi che ci restituiscono ancora una volta un ritratto di Josef Ratzinger dove quello che emerge forse soprattutto è l'uomo di fede, una fede semplice e profonda. anche mi colpiva questo ricordo di questa lettera che ha citato Zuppi dove, come dire, accanto al ragionamento rigoroso dell'idea di incontrare colui che poi giudicherà la nostra vita c'è la certezza tenera e semplice della fede di trovarsi non davanti a un giudice ma soprattutto davanti a un avvocato. Sì, è proprio così. colpisce in effetti lo ha detto molto bene Cristiana Caricato nell'intervento da Piazza San Pietro che si è morto nel giorno di sabato. Lui è nato un giorno di sabato un giorno di sabato santo il 16 aprile del 27 e fu battezzato il giorno dopo la domenica di Pasqua e penso che tutta la sua vita sia stata in questa tensione nel mistero del triduo pasquale nell'editoriale che oggi pubblichiamo sullo segretario romano Possiamo vedere scusa Andrea che ti interrompo ma abbiamo la prima pagina quindi la facciamo vedere così ce la spieghi visto che ne stai parlando Sì c'era appunto un riferimento ecco vedete questa è ovviamente la notizia l'annuncio con sotto la cronaca e poi ci sono due testi due editoriali del direttore editoriale del direttore della comunicazione Andrea Tornielli che ripercorre un po' tutta la parabola la biografia quindi punti essenziali ricchi di questa ricca esistenza di Joseph Rassi che è Benedetto XVI e poi un piccolo mio testo che prende in esame alcuni aspetti più legati allo stile al carattere alla personalità ecco di Benedetto e proprio in questo testo io citavo una stupenda struggente riflessione meditazione sul sabato santo che è stato un giorno che essendoci nato Joseph Rassi che è sempre rimasto affascinato da questo mistero e meditando sul fatto che Gesù il sabato santo come dice il simbolo apostolico discesa agli inferi dice quel buio quel buio della morte che stringe un pochino e angoscia tutti gli uomini è illuminato dalla luce di Cristo risorto che appunto illumina penetrando nell'oscurità più abissale che quella della morte ma questo è il mistero quindi quella fede che tu mi chiedevi penso che una fede semplice anche se di un raffinatissimo teologo ha spinto e animato tutti i giorni della vita di Joseph Rassi che benedetto mi sembra che questa giornata che è la giornata del sabato è la giornata anche chiamata del silenzio di Dio è la giornata del dolore per la scomparsa di Benedetto XVI eppure mi sembra che in qualche modo Benedetto ci abbia preparato con dolcezza e serenità a questo appuntamento così come non soltanto come dire perché arriva alla fine di un cammino lungo 95 anni quanto perché tante volte in anni recenti ci aveva parlato con naturalezza e semplicità di questo momento sì in questo è veramente un esempio luminoso la sua la sua fede semplice di uomo mite che si affida appunto al Signore e a Gesù direi al quale ha voluto dedicare da Papa un'opera in tre volumi ritagliandosi il tempo di scrivere quest'opera che non era come diceva lui frutto diciamo del suo non era un testo del suo magistero ma era appunto il frutto del suo amore verso Gesù e chiedeva ai lettori un anticipo di simpatia per accoglierlo ecco io nell'editoriale che ho pubblicato ho messo tre parole gentilezza gioia umiltà se ne potrebbero aggiungere altre ma penso che questa sia la costellazione dentro la quale si è mosso e ha vissuto e ha lasciato questo esempio straordinario questo uomo semplice questo umile eseguitore della vigna del Signore grazie grazie Andrea e buon lavoro grazie a voi a voi e buon anno do il benvenuto a Don Julián Carron professore di teologia all'Università Cattolica di Milano ma anche a lungo guida della Fraternità di Comunione e Liberazione benvenuto Don Julián buonasera prima di farti intervenire vorrei farti ascoltare le parole di un collega tuo e di Ratzinger in quanto teologo Pierangelo Sequeri che ha risposto a delle domande di Marco Burini proprio facendo un salto un attimo indietro al valore del pontificato così come era stato salutato nel 2005 all'esordio percepito come un pontificato di transizione aveva 78 anni era stato a lungo collaboratore di Giovanni Paolo secondo eppure questi quasi 8 anni di pontificato sono stati molto di più che una transizione o una prosecuzione in un certo senso del papato precedente sentiamo cosa ha detto Pierangelo Sequeri la prima immagine a dire la verità di colpo è l'immagine di forse anche di un teologo di un grande teologo di un grande papa che ha nobilitato il concetto di transizione potremmo dire di solito si dice un papa di transizione aspettiamo un papa di transizione un vescovo di transizione per dire un profilo basso in attesa che arrivi veramente un protagonista questo è stato un protagonista ma appunto aveva sia da teologo sia da papa lo stile di quello che deve condurre una transizione ha trasformato senza perderla la tradizione in transizione c'è il senso più alto della tradizione che possiamo immaginare c'è una tradizione che ci porta avanti fino a quando il Signore verrà se no se ci fermiamo non è più neanche tradizione in fondo tutti anche quelli che ci guardano e ci ascoltano si ricorderanno alla fine che fin dall'inizio noi abbiamo avuto dei cenni chiari che quest'uomo non era disposto a fare carte false per diventare papa cioè era consapevole per così dire di questo di accettare qualche cosa di importante quindi anche di pesante da parte della Chiesa e non semplicemente di uno che fa un passo avanti nella carriera questa sarebbe una sciocchezza secondo me è uno dei papi in cui è stato più evidente per così dire questa come dire questa delicatezza nel ricevere dalla Chiesa ecco questa cosa e non di appropriarsene una volta che gli è stata consegnata e quindi alla fine anche questo è interessante che lui ha illuminato questa qualità del pensiero della Chiesa sul ministero Petrino che secondo me è anche teologicamente impeccabile e era giusto riscoprirla allora Don Julian mi pare che Sequeri indichi come cifra di questo pontificato un vero e proprio spirito di servizio con cui Josef Ratzinger ha assunto il ruolo di successore di Pietro un servizio a favore della tradizione come qualcosa però di vivo che va avanti sei d'accordo? Sono totalmente d'accordo a me quello che mi colpisce di più proprio è come la sorgente da dove nasce questo servizio perché per poter essere così libero come ha detto Sequeri per poter essere così distaccato di tutto per servire che che razza di pienezza ha vissuto nel suo rapporto con Cristo che per me è come la chiave da dove scorga tutta la sua persona se a questo si unisce tutta la sua grande intelligente per approfondire e riflettere sulla sua esperienza di fede allora non possiamo non essere commossi davanti a quello che lui ci ha testimoniato e che con tanta lucidità e semplicità come si dice costantemente ce l'ha documentato ma senza questa profondità di densità del suo rapporto con Cristo sembra che sarebbe impossibile tutta la profondità della sua teologia perché quello che ha comunicato non è soltanto una riflessione teoricale ma la certezza della fede a cui ha saputo dare tutta la ragionevolezza di questa fede è come se trovassimo in lui un esimio rappresentante della risposta a quello che chiedeva Dostoyevsky ma un europeo dei nostri giorni può credere veramente l'uomo libero razionale con l'uso pieno della sua ragione della sua libertà credere veramente in Gesù Cristo mi sembra che in lui abbiamo una figura che risponde in modo egregio a questa domanda lui ha reso disponibile a tutti quanti credenti e non credenti questa modalità di vivere la fede che è allo stesso tempo di una intensità religiosa profondissima e allo stesso tempo di una chiarezza solare intellettuale ci regali prima di salutarci un tuo ricordo personale perché hai avuto tante occasioni di incontro personale con Benedetto quello che ti è più caro se possibile la cosa più commovente era sempre la cordialità e l'affezione con cui accoglieva mia persona che mi sembrava completamente sproporzionato lui aveva avuto un rapporto molto intenso con Don Giussani e mi sembra che questo facilitava che lui avesse questa affezione che a me mi stupiva ogni volta di cui ero oggetto perché mi sembrava totalmente oltre qualsiasi misura e quindi questo era sempre qualcosa che stupiva a parte della curiosità con cui domandava su come andavano le cose o che tipo di riflessioni stavamo facendo in modo tale di poter continuare a accompagnare la vita nostra perché l'espressione più grande che ha avuto con noi è come tutti sappiamo il funerale di Don Giussani dove lui ha documentato tutta l'affezione che aveva per lui io ero diciamo un piccola cosa di questo rapporto che lui aveva generato con lui grazie davvero e buon lavoro grazie noi facciamo una piccolissima pausa poi torneremo ancora con tanti altri racconti e testimonianze per salutare Joseph Ratzinger eccoci di nuovo in diretta in questa giornata di saluto ma anche di ricordo e di riflessione su Benedetto XVI abbiamo sfiorato Massimo quello che è stato il pensiero ci vorrebbero trasmissioni dedicate solo a questo tu prima però hai parlato del teologo e del Papa che ha vissuto il cambiamento d'epoca vale a dire la fine della cristianità ma come si è rapportato a questo cambiamento d'epoca qual è il rapporto qual è stato il rapporto tra Ratzinger e la cultura contemporanea la secolarizzazione il secolarismo per dirla anche in altri termini dunque Ratzinger e poi Benedetto XVI è stato sicuramente un analista finissimo dei processi di secolarizzazione che hanno caratterizzato l'Occidente vorrei dire in maniera particolare dopo a partire dagli anni 80 in avanti dopo la caduta del comunismo insomma in qualche modo in cui la secolarizzazione che doveva bloccarsi in realtà è diventata ben più significativa e lui da Papa come sappiamo ha molto insistito sulla deriva antropologica di questo mondo in cui l'orizzonte naturalistico diventava egemone la vita umana come un blocco di materia diciamo così consegnata solo al gioco dei piaceri dei desideri alla società alla società del benessere in tutte le sue forme e soprattutto se posso permettermi una delle parole chiave contro le quali combatteva era quella del relativismo il relativismo lui era molto preoccupato di questo in relazione ai destini dell'Occidente in particolare però spiegaci pure che cos'è il relativismo non andiamo per scontato niente che cosa diceva invece Ratzinger relativismo significa è una controparola rispetto anichilismo cioè significa che questo mondo non crede più a nulla di propriamente vero a nulla di propriamente valido non crede a nessun bene che abbia valore assoluto crede appunto che tutto sia relativo e questo è tipico della mentalità lasciami dire del neocapitalismo avanzato degli anni 90 e successivi no? per cui ogni valore è interscambiabile insomma il bene assoluto non esiste io mi prendo quello che c'è e che mi fa piacere la vita è mortale godiamoci finché possiamo fino all'ultimo respiro questo è il senso ultimo e lui era molto preoccupato di questo ma non soltanto in quanto cattolico ma era preoccupato perché ricordiamoci che lui appartiene alla generazione che ha vissuto la seconda guerra mondiale e ha vissuto quando lui era un adolescente eccetera il nazionalsocialismo questa è un'esperienza che lo ha segnato in maniera indelebile il nazionalsocialismo è un sistema di potere che si fonda su un relativismo assoluto vuol dire che il totalitarismo o su uno assolutismo laico esatto è un totalitarismo che nasce sul terreno del relativismo e del naturalismo quindi lui aveva di fronte questa minaccia questo rischio anche per la democrazia liberale cioè se tu togli Dio dalla storia crei un gigantesco spazio per giganteschi idoli che possano essere quelli del totalitarismo oppure possono essere anche quelli più piccoli privati esatto quello che ha molti critici molti che hanno stigmatizzato questo suo atteggiamento soprattutto da parte laica insomma così quello che non hanno compreso del Papa è che in realtà lui combatteva questa battaglia contro il relativismo a partire da una difesa della modernità perché Ratzinger non è mai stato un reazionario un conservatore come lo hanno dipinto troppi non comprendendolo in realtà è stato il primo Papa che ha difeso apertamente l'illuminismo che ha difeso apertamente le libertà moderne cioè che ha valorizzato fino in fondo il lascito del Vaticano II riguardo alla dignitatis umana al principio della libertà religiosa perché lui ha sempre detto per esempio non è mai stato un medievalista ha riconosciuto la grandezza del Medioevo ma anche i suoi limiti non c'è troppa libertà nel Medioevo e quindi la modernità ha avuto ben ragione di rivendicare il principio della libertà che è un principio cristiano quindi questo spiega perché lui era un critico della teologia politica cioè tu mi stai dicendo che lui è stato allo stesso tempo un difensore della fede e della ragione assolutamente la sintetizzo così sono corretto assolutamente ma invece adesso evidentemente è troppo presto però tu sei uno storico e che che posto ha secondo te Benedetto XVI nella storia nella storia in particolare del novecento e poi della prima parte di questo terzo millennio durante il quale è stato per quasi otto anni pontefice un ruolo rilevante proprio a partire da quello che vi siete detti poco fa lui ha tentato di puntellare la fede con la ragione e la ragione con la fede questo è stato un'opera di tutto il suo pensiero pensate anche quando fece quel discorso a Regesburg nel 2006 che fu incompreso lì c'era proprio questo mutuo sostegno tra ragione e fede che rientrava secondo la sua visione nella stessa storia dell'Occidente dell'Occidente europeo ma anche dell'Occidente inteso in maniera più vasta dove per lui l'armonia tra la ragione e la fede garantivano quel sistema all'interno del quale lui stava noi stiamo e che era anche dentro il recinto della modernità allora il suo contributo che rimarrà nel tempo è legato proprio tutto alla sua produzione da teologo pensiamo il primo libro che viene alla mente parlando di Ratzinger che non si ricorda la sua tesi dottorale ma la sua introduzione al cristianesimo che è del 68 quindi più di 50 anni fa tradotta in tante lingue ancora riedita è un classico ormai del pensiero cattolico del novecento cioè la sua ricchezza ormai da anni è andata oltre lui e c'è continuità nel pensiero di Ratzinger a volte è stato raccontato come la banalizzo perché tante volte l'immagine di Ratzinger è stata banalizzata come un progressista da giovane e un conservatore da adulto diciamo così è così secondo te? il problema anche proprio in riferimento a introduzione al cristianesimo il problema è che noi applichiamo categorie politiche al cattolicesimo e al religioso questo è un problema che ci portiamo avanti da decenni che non ci aiuta a capire la complessità della vita e del dato religioso in se stesso con lui questo equivoco è evidente perché è stato tante volte descritto come un carabiniere della fede quando in fondo è stato un enorme creativo la cifra del suo pensiero è più quella del riformismo che della rivoluzione è un riformismo che dice proprio la vitalità del pensiero lo diceva prima il professore anche quando si parla della tradizione la tradizione è un qualcosa di per se stessa viva altrimenti diventa un museo diventa un bello scavo archeologico che apprezzo moltissimo ma non tocca la realtà allora l'opera di Ratzinger da teologo fino al pontificato è stata quella di presentare in maniera viva e direi vivace il pensiero è la fede cristiana il suo punto in ultimo era come proporre la fede come una realtà rilevante per l'uomo di oggi del ventesimo e poi del ventunesimo secolo e lì c'è stato tutto il suo sforzo tramite un linguaggio semplice come poteva essere capito dagli uomini che lui incontrava saluto collegato con noi il direttore di avvenire Marco Tarquinio ciao Marco ciao buongiorno Gennaro buongiorno ai tuoi ospiti a tutti quelli che ci ascoltano stavamo parlando del pensiero di Josef Ratzinger a me ha colpito una cosa che tu hai scritto nell'editoriale credo per l'edizione straordinaria di avvenire quando hai collegato l'impegno di Ratzinger per definire l'importanza del cristianesimo del Vangelo nella vita civile dell'uomo di oggi contemporaneo con un episodio che gli è accaduto da ragazzino che tu l'hai preso come una chiave dell'impegno di Ratzinger sul versante civile e religioso al tempo stesso un interrogatorio con un con un soldato dell'SS ce lo racconti perché mi sembra illuminante fu il Papa emerito stesso a raccontarlo un ufficiale dell'SS quando era stato arruolato giovanissimo a forza mi chieseva tu ragazzo cosa vuoi fare da grande e Josef Ratzinger rispose voglio fare il prete l'ufficiale nazista gli rispose per quelli come te non ci sarà posto nel mondo che stiamo preparando ecco io ho fatto la chiave come tu dici e mi ricollego alle cose che sono state dette molto bene poco fa nel posto di Ratzinger che non doveva esserci è questa lunga battaglia contro il pensiero che vuol cancellare Dio e con Dio l'uomo e l'umanità dell'uomo le due cose si tengono fede ragione strettamente unite ma è un abbraccio fraterno possiamo dire che è parte di tutta la grande vicenda del cristianessimo che è unito all'idea di libertà che Ratzinger ha coltivato in maniera profonda responsabile profondamente cristiana collegandola al compito che abbiamo per la nostra umanità oggi che è quello di preservare l'umano da transumano che si fa disumano io in questo sento una gratitudine enorme nei confronti di ciò che il Papa ha saputo consegnarci anch'io che non sono un filosofo sono solo un cronista sono figlio di un filosofo ma sono innamorato del pensiero forte e gentile troppo troppo si è nascosta questo questo aspetto che mi colpiva la gentilezza la tenerezza era uno degli omaggi che il Papa Francesco ha reso a Joseph Ratzinger ha benedetto consegnandovi un'immagine della Vergine avrete presente quell'episodio bellissimo forse l'avete anche trasmesso il primo incontro credo che parlasse anche di umiltà dell'umiltà che è l'altro tratto benedetto è un uomo che è un protagonista assoluto come hanno detto benissimo i tuoi ospiti ma al tempo stesso è un uomo che è capace di stare accanto accanto a Giovanni Paolo II caro Voitiro il Grande accanto a Francesco come prefetto della Congrazione per la Dottrina della Fede e come Papa Emerito un ruolo inedito della nostra modernità cristiana che ha saputo interpretare in maniera appartata ma non isolata rispetto a quello che accadeva al mondo attraverso lo strumento della freghiera ed una adessione che dal principio da grande teologo qual è ha spiegato con due parole che mi hanno emozionato a suo tempo e che ricordo anche nel mio editoriale l'edizione straordinaria digitale di Avvenire che abbiamo realizzato per noi giornalisti da carta stampata oggi è un giorno impossibile è uno dei sei giorni in cui sono chiusi tutti gli impianti produttivi ma non potremmo non esserci e l'immagine è quella che lui usò congedandosi al collegio cardinalizio quando disse ai fratelli cardinali io servirò con obbedienza e reverenza il mio successore che erano le parole che ha scelto San Francesco d'Assisi per la sua regola che dava a se stesso come compito ai suoi frati minori e con frutto di messerlo papa mi emozionò allora la cosa e dentro ci ho visto come un segno fra l'altro che poi da umbro vedo nell'ascito nel passaggio da Benedetto a Francesco senti ma come è stato il rapporto Benedetto a Francesco che ha conservato la luce Benedetto quello che conserva la luce e la tiene nella notte che sembra addensarsi intorno Francesco come gli altri ordini mendicanti che poi la porta nel mondo ma come è stato questo rapporto tra il papa e il papa emerito che poi è durato quasi dieci anni sempre da cronista un rapporto straordinario ma anche perché esemplare in qualche modo pedagogico per il nostro essere chiesa perché la figura di due papi in contemporaneo non l'avevamo mai vista siamo dovuti abituare c'era chi voleva prendere il nostaggio Benedetto usarlo contro il papa regnante e ben ha resistito cagliardamente a partire da quella dichiarazione di tempi originaria e poi quando il papa Francesco ha parlato di lui come di un nonno qualcuno ha pensato un'immagine zuccherosa sarà che nel frattempo sono diventato un nonno anch'io e so che la nonnità è una condizione straordinaria nella vita dell'uomo in cui non viene nemmeno nulla dell'amore di cui dobbiamo essere capaci della profondità dell'intelligenza delle cose ma c'è una libertà maggiore nel viverlo io credo che sia questo stato il tempo di questi dieci anni e a me mi hanno sempre colpito molto queste immagini che stiamo vedendo ogni nuovo conclave ogni nuovo concistoro con la creazione di nuovi cardinali portava questa vista di famiglia al papa emerito penso che abbia fatto bene a tanti di noi insomma imparare questa grammatica per un tempo nuovo che ci sta davanti nel quale diventiamo più vecchi ci sono malattie invalidanti anche il papa può decidere di non essere in grado di svolgere pienamente il proprio ministero e credo che la chiesa dopo Benedetto e Francesco sta già predisponendo le cose da quanto abbiamo capito sta preparando anche a queste evenienze che sono nuove ma sono dentro il tempo la chiesa sa misurarsi con tutte le modernità sono segni dei tempi anche questi grazie davvero Marco e buon lavoro grazie a voi grazie grazie noi torniamo subito prima una piccola pausa eccoci di nuovo insieme stiamo riflettendo sul pensiero di Benedetto il sedicesimo sul suo rapporto con la modernità mi incuriosisce un aspetto della riflessione di Benedetto quello legato alle radici cristiane dell'Europa qual è il perché Benedetto peraltro seguendo anche il suo predecessore Giovanni Paolo II sottolineava ci teneva a sottolineare questa caratteristica come dire apparentemente regionale del cristianesimo perché lui il che è singolare no? singolare perché da un lato lui è un critico dell'illuminismo nel suo aspetto come dire di dissagrazione dall'altro è invece uno che loda le libertà che trovano anche nell'illuminismo una propria però appunto proprio per quello lui voleva insomma nell'Europa nel mondo latino è avvenuto questo incontro storico tra il cristianesimo e la cultura antica è stata la prima grande inculturazione della fede che ha segnato poi tutta la storia della chiesa ora lui era convinto che questa inculturazione non doveva precludere altre inculturazioni della fede in altri popoli in altre però rimaneva comunque fondamentale perché appartiene al patrimonio storico perché è il linguaggio originario con cui appunto la fede ha incontrato l'umano insomma perché i Vangeli li abbiamo avuti in greco in greco in latino ma ha incontrato l'umano questa sintesi giustamente Ratzinger non voleva perderla e a fronte di coloro che dicevano l'Europa non ha niente a che fare con la fede cristiana se l'è lasciata alle spalle ma queste sono sciocchezze perché in realtà siamo profondamente permeati di questa storia che la vogliamo quindi è una radice reciproca è una radice reciproca perché diceva lui la fede ha bisogno della ragione ma la ragione ha bisogno della fede e ambedue si correggono quindi non era un regionalismo assolutamente no è la consapevolezza che la fede è nata qui è nata in Oriente peraltro ma poi si è diffusa qui in Europa e la conversione dei barbari e tutto ciò che ha significato perché l'Europa non esisteva in precedenza è un frutto della fede comunque l'Europa poi ci torneremo anche dopo però tu devi andare via è una riflessione su un fatto storico perché non accadeva da diversi secoli credo da sei secoli il tema della rinuncia delle dimissioni dell'11 febbraio del 2013 che cosa è cambiato con quel gesto nella storia della Chiesa? Partirei da una frase di Francesco se mi permette di pan Francesco che ha definito quella decisione un atto di governo di Papa Benedetto alcuni hanno visto quella rinuncia come una dimissione come un non governare mentre il suo successore l'ha letta è definita come atto di governo cioè come proprio atto papale come hai detto tu ci sono state altre rinunce nella storia ma erano molti là nel tempo e non c'erano stati alcuni concili il Vaticano I che dà un ruolo molto importante al Papa nel suo primato di giurisdizione come nella sua infallibilità di insegnamento sotto alcune condizioni non c'era stato il Vaticano II che aveva ripensato i rapporti tra il Papa e i Vescovi e aveva introdotto la figura dei Vescovi Emeriti dopo questo percorso noi abbiamo la rinuncia di Benedetto che ricorda le rinunce precedenti ma nel suo vivere dopo la rinuncia si fa carico delle evoluzioni teologiche ecclesiologiche precedenti per cui lui si fa poi chiamare Papa Emerito la Chiesa oggi noi lo ricordiamo in questa maniera quindi nell'ultimo alto di governo lui ha giocato un atto creativo originale che è un po' la caratteristica della sua biografia pensiamo il suo percorso teologico i luoghi di insegnamento lui ha avuto sempre la libertà di iniziare e poi di lasciare per andare laddove poteva portare più frutto la caratteristica ultima del suo pensare e della sua biografia è la libertà però non è una libertà se vincolata ma secondo dopo aver esaminato attentamente la mia coscienza grande atto di libertà sono le parole con cui in latino le pronuncio l'unima una libertà che poteva essere vissuta da una chiara coscienza di sé prima è stato detto più volte una sua caratteristica è quella dell'umiltà cioè non si mette al centro e solo uno che non si mette al centro sa anche uscire nel modo migliore e il dato biografico mi ripeto è stato determinante per compiere quella scelta e quindi sa essere possiamo dire così perché poi sentiremo adesso Pierangelo Sequeri possiamo dire sa essere uomo di tradizione senza essere tradizionalista totalmente perché anche il mondo tradizionalista se ci ricordiamo aveva le distanze da lui quando era cardinale e non solo in quel tempo anche dopo e il gesto delle missioni non è stato digerito dai tradizionalisti peraltro questo è anche interessante Ratzinger è continuamente innovativo non può essere bloccato in un passato e se si tenta di bloccarlo scappa perché c'è sempre qualcosa di più e di nuovo fugge grazie davvero Don Roberto noi ti salutiamo però continuiamo a riflettere sul tema del rapporto tra Benedetto XVI e la tradizione sentiamo il parere di Pierangelo Sequeri intervistato da Marco Burini Ratzinger aveva il gusto speciale anche sorridente puntiglioso insieme sorridente a me è molto simpatico questo aspetto cerco di spiegarlo meglio che posso e cioè lui diceva poniamo questa idea che appartiene alla diciamo alla storia della nostro del pensiero cristiano della tradizione cristiana eccetera oggi forse non è più sufficiente però prima di buttarla dobbiamo guardare che cosa ha di prezioso perché quello lo dobbiamo traghettare allora diventava persino ironicamente e io dico persino non sembri offensivo persino furbescamente puntiglioso nel dire questa cosa lo so che è una roba che ormai è considerata un po' nel passato ma questa parola questo modo di pensare questa idea che magari viene da una teologia più antica prima ci dobbiamo spremere il buono cioè vale dire esaltarne la potenza e allora in quel momento la potenza la possiamo acchiappare per mandarla più avanti ma io penso che è di questo tipo il suo lavoro su Gesù e cioè l'idea certo abbiamo superato il concetto l'idea che appunto si tratti qui di documenti della biografia di Gesù che storicamente e con precisione bene però il rischio di ridurli ad un'interpretazione teologica che alla fine qualunque cosa sia successo c'è un po' questo vezzo anche tra i teologi uno dice beh se non avessimo l'interpretazione della fede cristiana al dogma cristiano la storia di Gesù potrebbe essere anche la storia di uno zelota un po' appassionato che ha creato un po' di scompiglio un po' di provocazione con delle tesi audaci però diciamo sarebbe consegnato la storia io dico no i discepoli hanno avuto qualcosa di forte a cui attaccarsi per creare una tradizione che dopo pronunciava i nomi che ha pronunciato il figlio di Dio l'incarnazione eccetera non è che possa essere passato così e soltanto dopo si sono detti ma qui c'è qualcosa di speciale devono averlo anche visto e perciò la prima tradizione quella assoluta quella che coincide con la parola di Dio quella dei Vangeli ha la storia ha la forma della storia e non del credo dell'elenco del credo lui si è appassionato a questa cosa in un momento in cui forse siamo anche un po' faciloni a dire ma certo questa è l'interpretazione della fede ha detto no questo è anche il racconto di quello che è accaduto e le due cose appunto si tengono l'una con l'altra ecco questo è un puntiglio se vogliamo chiamarlo così ma bello cioè uno che non lascia la partita e dice qui ci buttiamo l'acqua con il bambino prima ne tiriamo fuori qualcosa no persino dalle categorie della scolastica persino no da antichi gesti della liturgia prima ne tiriamo fuori qualcosa quando ne abbiamo colto la potenza perché niente avviene per caso nella tradizione allora possiamo anche darle un'altra forma e traghettarla questo è un gesto che lui ha ripetuto molte volte e qualche volta in modo appunto che ha potuto essere giudicato politicamente scorretto come si dice questo ormai lo accettano tutti forse anche ecclesiasticamente scorretto nel senso delle abitudini ma come andiamo ancora a pescare ecco perché lì c'è qualcosa lo ha fatto per esempio a proposito del canto della musica sacra poniamo ecco un altro per dire va bene vengono altri tempi però lì c'era qualcosa finché non l'abbiamo tirato fuori allora non siamo tranquilli nel traghettarlo in questo senso è una transizione che coincide insieme con la tradizione con l'innovazione cioè ritrova la freschezza la potenza di qualcosa che adesso deve essere mandato avanti benvenuto a Rosanna Virgili professoressa di scienze bibliche alla Pontificia Università Lateranense a proposito di Bibbia quest'ultimo commento di Pierangelo Sequeri mi sembra legasse in maniera forte mettesse in evidenza il rapporto tra il pensiero la teologia di Ratzinger e la fedeltà alla scrittura alla storia diceva Sequeri sì certamente infatti condivido pienamente quello che ha detto Sequeri intanto Ratzinger è un teologo biblico lui è uno studioso di teologia biblica e a 35 anni partecipa al concilio Vaticano II come una diciamo con uno spirito assolutamente innovativo che gli veniva proprio dagli studi biblici e volendo adesso appunto passare per ragione di brevità alla sua opera sui Vangeli beh diciamo che proprio il metodo che lui utilizza per studiare quindi la la figura di Gesù nei Vangeli è proprio il metodo storico critico quindi quel metodo che noi chiamiamo appunto scientifico quello che è stato prima adottato dai cristiani riformati dagli studiosi diciamo delle confessioni non cattoliche poi è passato anche al mondo cattolico quindi questa sua razionalità questo suo come dire approccio critico ai Vangeli è assolutamente primario in chi legge per esempio appunto i volumi su Gesù certamente poi ecco vorrei concludere dicendo questo che i Vangeli sono già scritti di teologia biblica cioè sono già scritti teologici nel senso che è vero noi nei Vangeli andiamo a cercare non so la narrazione delle cose che Gesù ha fatto delle parole che ha detto eccetera ma chi ha raccontato questo noi ne abbiamo quattro di Vangeli canonici lo ha fatto comunque con uno sguardo che era appunto teologico cioè gli autori dei Vangeli sono dei teologi di per sé o quelli sono gli autori noi diciamo quelli che sono i redattori finali dei Vangeli e quindi che dire Ratzinger come professore è stato proprio assolutamente dentro il milieu diciamo del tempo in cui la Chiesa Cattolica ha studiato tutta la Bibbia ma in particolare qui parliamo dei Vangeli proprio con i metodi storico-critici e quindi e senza avere paura a volte di andare in controtendenza no direi assolutamente di no in maniera sempre poi certo lui aveva una caratteristica credo davvero unica la limpidezza della spiegazione e controtendenza non significava per Ratzinger andare come dire certe volte come dire poteva sembrare andare più avanti certe volte più indietro rispetto al pensiero dominante anche qua non lo possiamo incasellare anche questo ancora una volta mi sembra un elemento interessante facciamo una piccolissima pausa adesso però eccoci di nuovo in diretta insieme a Rosanna Virgili e Massimo Borghesi ci ha raggiunto intanto in collegamento il neopresidente della fondazione Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli benvenuto grazie buonasera io ti ho presentato come neopresidente ma adesso ti faccio tornare indietro a quando dirigevi Il Quotidiano perché tu eri direttore quel giorno dell'11 di febbraio del 2013 quando fumo tutti colpiti da questa notizia completamente inaspettata e nuova per la storia neanche recente della Chiesa Cattolica quella delle dimissioni di Josef Ratzinger di Benedetto XVI rivediamo le immagini di quel momento capitis mutationibus subiecto ed questionibus mani pondris provita fide perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius che ultimis mensibus in me modo tale minuitur e incapacitate mi am ad ministerium i commissum bene administrandum an joshere debiam qua propter bene consius pondus huius actus plena libertate di claro me ministerio episcopi Rome succesori santi piti vi per manos cardinalium di undificisimo aprilis bis millesimo quinto commissum renunziare ita o da die vicesimo octavo februari bis millesima tredicesima ora vicesima sedes Rome sedes santi piti vacet et conclave ad ilicendum novum sum pontificem apis quibus competit convocantum esse fratis carissim ex sotto accordi grazie saga vopis promne amore et labore quo me cum pondus ministeri me portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris dominos jesus christi confidimus sanctam geus mater mariam imploramus ut patibus cardinalibus in ilicendum novum summa pontifice materna sua bonitate assistat chodat mi attenet itzam in futuro vita orazione dedicata sancta ecclese de tot ex corde servire velim confesso che sono parole e immagini che a distanza di quasi dieci anni ancora mi emozionano come le vivesti tu? cosa accadde al corriere della sera quel giorno? è una grande emozione riascoltare quelle parole perché sono dette come un grande gesto di responsabilità e di generosità che forse in quei giorni colpiti dalla novità assoluta non riuscimmo a comprendere, a capire e forse nemmeno a descrivere come avremmo voluto perché si scatenò ovviamente tutta una serie di ipotesi su quali fossero i motivi della rinuncia certamente la vecchiaia certamente il fatto di non poter più adempiere al compito di papa a volte si è parlato poi le speculazioni sono state come sapete numerose poi nei mesi del settimana nei mesi successivi insomma perché forse anche un gesto di ribellione alcune cose che non andavano nella gestione della chiesa e quel momento particolare nel quale tutti, immagino anche voi ci siamo trovati di fronte ad una novità storica ma ripensandola adesso a quasi dieci anni di distanza è stato un gesto di grandissima generosità e nello stesso tempo di straordinaria modernità della chiesa cioè sia stato un salto che in quel momento beh, capita e quando ci troviamo a descrivere come cronisti i fatti storici non riusciamo a trovare subito la dimensione vera degli avvenimenti li seguiamo negli aspetti più piccoli insomma preoccupati di andare in edicola o di scrivere qualcosa e di coprire l'avvenimento però ecco quello che forse poi è mancato in questi dieci anni anche per rispetto diciamo alla figura di Benedetto XVI perché ci troviamo anche adesso in una condizione molto particolare perché Benedetto XVI ci ha lasciati nella prima parte di quasi dieci anni fa e ci lascia purtroppo nella grande tristezza oggi ma forse avremmo potuto e dovuto parlare di più della sua eredità e di quel gesto e del significato di quel gesto mentre forse siamo stati tutti presi magari in una secolarizzazione dell'avvenimento di andare a guardare delle altre supposte verità che probabilmente non c'erano e non ragionare fino in fondo su questa straordinaria modernità su questo salto in avanti della Chiesa Allora proviamolo a fare ora questo questa scelta magari anche unita a alcune scelte del suo successore Francesco secondo te hanno in un certo senso desacralizzato la figura del pontefice e l'hanno umanizzato di più e quindi in un certo senso mi verrebbe da dire reso ancora più evangelico lo hanno certamente reso più evangelico nella sua modernità più vicino anche alla realtà di tutti i giorni dei fedeli questo dobbiamo dircelo con molta sincerità ovviamente perché faticammo a comprendere il significato profondo di quel gesto in quel momento anche perché eravamo reduci dal calvario di Giovanni Paolo II e anche io mi ricordo che passai un articolo di Enzo Biagi che disse ma insomma questo Papa giustamente vuole morire sulla croce sopportando il dolore fino in fondo mostrandolo al mondo e noi eravamo tutti presi dal dolore dal lutto dalla compartecipazione all'agonia di Giovanni Paolo II che fu lunghissima insomma quello che è accaduto poi con la scelta immagino sofferta ma maturata pensata di Benedetto XVI che poi è una scelta che anche lo stesso attuale pontefice condivide insomma cioè quando a un certo momento non ci sono più le forze giusto e responsabile forse desacralizzando questa figura così importante del pontefice renderla più umana più vicina alle sofferenze di tutti quindi come dici giustamente tu più evangelica insomma e ovviamente c'è un distacco molto profondo da quello che era accaduto con Giovanni Paolo II ma in quei giorni noi avevamo ancora in mente quello che era accaduto nel 2005 lo capiamo meglio adesso in qualche modo anche con le immagini dell'ultimo atto quello del 28 febbraio stiamo rivedendo la facciata a Castel Gandolfo anche queste sono immagini commoventissime come quel lungo giro di elicottero sopra la città di Roma grazie ancora direttore e buon lavoro grazie grazie noi torniamo adesso invece a piazza San Pietro dove c'è Paolo Fucili ci sono anche delle novità importanti Paolo per quanto riguarda l'omaggio alla salma di Benedetto XVI si è uscita una nota della sala stampa raccontaci tutto eh sì sono uscite alcune informazioni sicuramente utili ai fedeli chiunque vorrà omaggiare il Papa Emerito Benedetto XVI che oggi ci ha lasciato i funerali erano stati preannunciati per giovedì alle 9.30 ma prima di quella data prima di quel giorno si potranno essere omaggiate dai fedeli chiunque vorrà dentro la basilica di San Pietro le spoglie di Josef Ratzinger dunque rimarranno spoglie che rimarranno al monastero Mater Ecclesie fino alle 9 di lunedì prossimo 2 gennaio il monastero Mater Ecclesie si trova nei giardini vaticani e lo ripetiamo è la residenza è stata residenza del Papa Emerito per questi quasi ultimi dieci anni queste le spoglie saranno portate lunedì alle 9 in basilica la basilica rimarrà aperta fino alle 19 martedì 3 gennaio e mercoledì 4 gennaio la basilica rimarrà aperta dalle 7 alle 19 quindi 12 ore di tempo ogni giorno per dare la possibilità ripetiamo ai fedeli di rendere omaggio con una preghiera un gesto di raccoglimento al Papa Emerito Benedetto XVI giovedì funerali alle 9.30 la sala stampa informa che non sono previsti biglietti cioè ci si può recare in piazza liberamente senza in qualche modo essere dotati del biglietto che invece viene normalmente richiesto per le altre celebrazioni e per le udienze del Papa le delegazioni ufficiali presenti saranno quelle della Germania e dell'Italia Papa Francesco celebrerà questi funerali alla termine dei funerali quindi saranno grossomodo circa le 11.30 di giovedì 5 gennaio il feretro di Benedetto XVI sarà portato dentro la basilica al piano sottostante il sotterraneo e le cosiddette grotte vaticane lì sarà tumulato in quest'area dove sono appunto sepolti numerosi papi soprattutto della storia più recente dei secoli più recenti qui a Vaticano siamo in via conciliazione sullo sfondo San Pietro si prepara la celebrazione dei primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio li presiderà Francesco sarà la prima occasione in cui il Papa potrà avere una parola su quello che è avvenuto oggi la morte del suo predecessore noi siamo qui da stamattina abbiamo ascoltato tanta gente tante voci vogliamo proporvi la commozione della gente che era qui in piazza nella clip che chiedo di lanciare e poi ci possiamo trovare di nuovo successivamente se avete domande da fare è stato è stato sempre un Papa molto riservato però secondo me ha fatto del bene e si è operato tanto per le persone e per il mondo quindi lo ricorderemo sempre bene secondo me ancora dobbiamo aspettare un pochettino per vedere la ricchezza che lui ha portato alla chiesa io ci credo molto che è un Papa molto sconosciuto è stato emerito in verità non è per me non è stato mai emerito è stata una vita della chiesa il Papa ha portato una ricchezza grande una persona che delle cose principali molto importanti ha parlato con le parole molto semplici e molto chiare per me a me lui personalmente ha aiutato a capire la chiesa ricordo di un grande studioso un grande filosofo una persona come dire di una cultura immensa vastissima sicuramente un Papa molto diverso da Papa Francesco ma sicuramente l'immagine è che è stato il primo Papa che si è che ha avuto il coraggio di mettere se quindi è stato comunque un personaggio coraggioso che in realtà dietro una facciata appunto che un po' riflette la sua origine la sua prevenienza c'era un cuore molto tenero e buono insomma molto delito alla gente io me lo ricordo come Papa poi una persona figura molto molto umana molto mi commuovo sempre parla di Papa e sono sempre persone che hanno una certa non so che belle molte di queste testimonianze che abbiamo ascoltato qual era secondo voi il rapporto che Benedetto XVI aveva con la gente non aveva evidentemente la fisicità anche del suo predecessore e forse nemmeno la semplicità diretta di Francesco eppure però si faceva capire l'abbiamo dedotto da quello che abbiamo ascoltato tra l'altro sì pensavo proprio questo mentre sentivo l'ultima persona l'intervistata che sì è un Papa studioso un Papa che riusciva a parlare molto bene diciamo agli accademici e anche ai dottori teologi eccetera ma io ricordo l'ultima sua messa in piazza San Pietro che fu una messa di saluto e c'erano tanti romani quella volta e c'erano delle signore anziane vicino a me così che dicevano beh certo Gesù Cristo non si dimette come se il Papa cioè mostrando proprio questa sensibilità nei confronti del Papa che è quella popolare Scusa Rosanna intanto abbiamo le immagini in diretta da San Pietro dove sta per iniziare la celebrazione dei primi vespri e il tedeum cui tra pochissimo lasceremo la linea finisci appena sì no dicevo che e l'altra poi rispondeva beh dice Porello però se non ha più la forza di guidare di essere perché e questo per me è molto importante cioè lui è riuscito a farsi capire benissimo a chi non ha voluto diciamo chi ha rifiutato in maniera quasi non prevenuta le sue dimissioni non ha capito ma secondo me la gente invece ha capito e ha capito due cose importanti proprio davvero la base della nostra Chiesa cattolica la prima che il Papa è il vicario di Cristo ma non è Gesù Cristo e quindi questa sacralità di cui parlavi anche no prima tu Gennaro è finalmente con come dire è stata diciamo era un equivoco che è stato secondo me assolutamente smantellato il Papa è un essere umano e quindi quando lui dice mi è venuto a mancare il vigore del corpo parla proprio di questo e naturalmente la gente più semplice capisce che a un certo punto a una certa età non si riesce più a fare determinate cose la seconda cosa molto importante è che questo Papa io ricordo le sue parole disse non vi lascio soli ma vi lascio al vostro vero pastore che è Gesù e questa è una cosa molto importante questa che diceva adesso Rosanna vale a dire lui non si è mai fatto protagonista sempre indicato anche alle GMG diceva qui non siete per me non sono una rock star ma siete per incontrare il Signore solo che noi dobbiamo fare lo stesso perché sta per iniziare la celebrazione quindi ringrazio Rosanna Virgili e Massimo Borghesi vi lascio alla diretta della celebrazione dei primi vesperi della solennità di Maria Santissima Madre di Dio il tedeum di ringraziamento per l'anno trascorso sentiremo sicuramente le parole di Francesco su Benedetto XVI e poi per il nostro addio a Benedetto XVI ci rivediamo domani mattina alle 9 e 20 grazie per essere stati con noi